La ricerca e la scienza sono una priorità per un Paese progredito, in particolare per un Paese che sta ancora uscendo con fatica da questa crisi economica. Ricerca e scienza sono un aspetto determinante affinché il nostro Paese possa tornare a crescere in modo sostenibile in ogni suo settore. Come sapete è di pochi giorni fa la notizia, e voglio richiamarla, che proprio Bologna, la sua Università, ospiterà il quartier generale dell'ambiziosa infrastruttura di oltre 100 telescopi che saranno installati in Cile e alle Canarie e che una volta realizzata sarà il più potente e sensibile osservatorio per i raggi gamma di origine cosmica mai costruito. È una scelta importante che rende lustro a Bologna e alla sua Università ancora una volta a livello internazionale e che conferma il grande valore dei ricercatori del nostro territorio insieme alla capacità della città di attrarre investimenti anche in campo scientifico. Non è un caso che si scelga Bologna. Considerata la qualità della la ricerca scientifica, considerata la qualità delle persone che si dedicano agli studi e la ricerca scientifica nella nostra città, è che è in grado di esprimere la nostra Università. È semplice ed è difficile a farsi. Nelle città la differenza la fanno le persone. Caro Rettore, sono convinto anch'io che dobbiamo investire insieme sulla conoscenza, sull'entusiasmo e sulle capacità di questi giovani e anche a scommettere insieme sulla generosità dei senior di sapersi fare da parte quando necessario. E a voi cari giovani voglio dire che il percorso e il futuro della ricerca non possono prescindere dallo scenario europeo e da una dimensione cosmopolita, cosmopolita, internazionale. Il nostro cittadino ucciso dall'IBR, Marco Biagi, diceva che c'è tanto bisogno di Europa. Siamo in un momento di cambiamento. Questa parola cambiamento assume tutta la sua ambiguità. Si può cambiare in peggio, come stiamo assistendo. È di un cambiamento anche imprevedibile fino a pochi mesi fa. Credo che insieme, grazie ai vostri studi e alla vostra passione, dobbiamo sapere interpretare e guidare un cambiamento adeguato affinché la sfida della rinascita del nostro Paese e dell'Europa unita sia vinta. Il risultato del referendum del Regno Unito ci dice purtroppo che il cammino di costruzione di un'Europa unita fra tutti gli Stati che abbiamo intrapreso nel dopoguerra è ancora incerto. Quello che è certo è che è il momento di prendere decisioni forti verso una maggiore integrazione, almeno da parte del nucleo fondatore della nostra Europa. Ha ragione, rettore, siete ambasciatori della nostra città nel mondo e in particolare in Europa. Io condivido molto questa prospettiva. Siete ambasciatori non solo della grande Università di Bologna, ma di una città che è la città dell'incontro e del dialogo, come ha detto un nostro grande sindaco Zangheri, che non a caso è stato il primo assessore alla cultura di tutti i comuni d'Italia. In questa prospettiva quindi dobbiamo lavorare per costruire un'Europa moderna e unita e cercare di raccontare una storia adeguata per il nostro futuro. E' vero, quello che ha detto il magnifico rettore, i giovani europei sono per l'Europa unita, in particolare chi ha già studiato insieme in Europa, pur essendo di paesi e di provenienze diverse. Quei vostri studi, e il rettore ha usato una parola che voglio sottolineare anch'io, l'ha usata ripetutamente, ha usato la parola comunità. Ha parlato di comunità rivolta a voi, ha parlato di comunità parlando dell'Università di Bologna e ha parlato di comunità parlando del Comune di Bologna. Voi mi insegnate con i vostri studi che la parola territorio ha una radice terreo, delimitare con autorità e con capacità di incutare timore un ambito appunto territoriale. La parola comunità esprime tutta un'altra prospettiva. Non abbiamo più bisogno di territori da delimitare con un'autorità che incute timore, abbiamo bisogno di comunità e di costruire insieme comunità, a cominciare dalla nostra Europa. E quindi la nostra città, insieme alla nostra Università, deve continuare ad attrarre nuove energie e capacità e deve sapere dare ai vostri studi, come meritate, insieme al Comune di Bologna, una prospettiva. Questo dobbiamo fare, questo è l'impegno che assumiamo di fronte a voi insieme al Rettore. E infine, visto che a breve c'è una partita e che questo soprattutto è un giorno di festa per voi, la cosa a cui tengo di più. Auguri di cuore, auguri davvero di cuore. Oggi è un bel giorno per voi, per i vostri amici, per le vostre famiglie e se permettete è un buongiorno per Bologna. Grazie.